La cosa importante per me è riuscire a fare un film, quindi chiunque mi dà questa possibilità io lo sto ad ascoltare perché è importante. Dopodiché c'è un discorso importantissimo che è quello che è dentro il film è quello che deve servire al racconto del film, quindi qualche volta bisogna forse fare anche delle scelte come dire dure, difficili, che non avere i soldi se non va bene per quello che devi raccontare quindi delle volte si può partire anche da quello, delle altre volte è quello di far entrare quello che stai e di cui hai bisogno per il tuo racconto, di farlo entrare dentro il film, normalmente, naturalmente per quello che è possibile. Io faccio cinema, non faccio pubblicità, quindi il mio problema più importante è affermare la forza, la potenza, la creatività che c'è il cinema prima della pubblicità, lo so, quindi per me quello è la cosa più importante. Turismo, io per cercare quel posto volevo un posto del sud, poi mi volevo farlo in Calabria perché ero nato in Calabria, mi ricordavo il mare, i tramonti, i posti della Calabria, eccetera e quindi volevo riprodurre quell'immaginario che avevo nella mia infanzia, parlavo di ragazzini e quindi come dire, cercavo quell'immaginario lì, però cercavo un posto che mi raccontasse il sud, poi che fosse a Diamante, che fosse in Calabria, in Sicilia, in qualunque posto del sud per me andava bene, quello era il mio obiettivo e con quella direzione sono andato. Alla fine ho trovato un posto semplicemente che mi piaceva, che aveva degli spazi che mi permetteva di girare quello che volevo e dovunque girasse il mio sguardo c'era quel tipo di luce, a Diamante c'era, forse si chiama Diamante apposta.